Tanto per cominciare, mettiamo le cose in chiaro, io non sono uno svitato, va bene? Nel senso, se lei non crede a quello che io credo io, non è che sono pazzo, ecco. A volte percepiamo che il mondo sia contro di noi, però è solo questo, una nostra percezione.